Amici, si vota per la Lombardia domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare occorre presentarsi al proprio seggio elettorale muniti della scheda elettorale ed un documento di identità. Entrati nel seggio vi verrà data come sempre la scheda elettorale. Per votare per me e per il centrodestra bisogna mettere una X sul quadrato col mio nome, Attilio Fontana e una X sul partito della coalizione per il quale vorrete votare e aggiungere di fianco la preferenza. Ho due preferenze se si tratta di due candidati di genere diverso. Mi raccomando andate a votare. In questo mese ho girato a lungo la nostra regione e ho incontrato migliaia di Lombardi. Andiamo a votare con orgoglio per la Lombardia e per il centrodestra.